Io sono dispiaciuto per i giovani perché loro vivono una situazione che non hanno voluto creare, la subiscono. I giovani sono cambiati così come sta cambiando la società e non è detto sempre in meglio. È il risultato del progetto andrologico permanente, una molle di dati probabilmente uniche in Europa, raccolta a Padova in dieci anni di lavori tra oltre 10.000 studenti maschi dell'ultimo anno delle superiori. I nostri 18-20 anni rispetto a 10-12 anni fa hanno una condizione sociale che è completamente diversa. Intanto sono per oltre il 20% figli unici e lo erano per il 10-11%. Circa il 20% è figlio di genitori separati e sono già due situazioni diverse. La gran parte dei giovani che hanno 18-20 anni ha genitori che hanno più di 55 anni, quindi un gap generazionale. Tutti questi fattori a cui si accumula una realtà sempre più filtrata dall'utilizzo di internet compongono uno scenario di giovani soli in cui l'unica compagnia è il computer. Ma i ragazzi stanno cambiando anche fisicamente. Questi giovani sono più alti, un centimetro e mezzo in più rispetto a dieci anni fa, non è poco. Ma l'altezza di questi giovani è sostanzialmente legata all'allungamento degli arti. Il tronco non si allunga tanto quanto gli archi, è una lunghezza squilibrata che proprio manifesta alterazione dell'equilibrio degli ormoni. Una situazione che si riversa poi anche in un terreno delicato come quello dei rapporti con le coetanee. Il 26% dei giovani non si ritiene soddisfatto della propria sessualità, il 26%. I giovani che hanno problemi, conclude il professor Foresta, non devono aver paura di rapportarsi con gli altri, anche con un medico. Chi vive serenamente i propri 18 anni molto probabilmente vivrà con equilibrio e serenità il resto dei suoi giorni.